Quindi, ecco, la premessa e poi l'Aurora dà il via ai lavori è che quello di oggi non è un comizio, non è un incontro pubblico, non è una roba politica, ma è l'inizio di un cammino di resistenza, visto che anche con questo governo ci hanno palesemente dichiarato guerra. Grazie a tutti. Allora, nell'attesa che si riempiano quei 17 posti lì vacanti, occhio che arriva uno tipo Renzi che sgomita e si siede subito, quindi davvero raccogliamo l'invito di Matteo e se davvero qualcuno ancora fuori può accomodarsi in sala. Io come direttore della Padania vi devo dire che mi sento davvero molto orgogliosa di poter presentare questo Basta Eurotour perché noi con il quotidiano La Padania, con Telepadania e grazie ai colleghi di Radio Padania Libera stiamo sostenendo concretamente ogni giorno questo percorso. che come diceva Matteo Salvini è secondo me una battaglia pre-politica, è una battaglia sicuramente economica, sicuramente sociale, ma è una battaglia soprattutto sovranista e identitaria. Un percorso che noi oggi con la Padania sosteniamo, un percorso che sosteniamo oggi con la diretta streaming attraverso i nostri portali, tutto gratuito a differenza di chi a breve comincerà uno show contro l'euro a pagamento, ovvero Beppe Grillo. E quindi a maggior ragione oggi verrà fornito a tutti voi, a voi tantissimi ospiti, un manuale di resistenza che avete già potuto vedere prima su nella hall e potete portarvi a casa. Anche questo gratuito che di questi tempi è già un bel guadagno. Ovviamente dopo l'anteprima fiorentina lo scorso fine settimana, domenica Salvini e il professor Borghi, lo sapete erano Firenze, tutti loro ci tenevano però a dare il via da qui, da Milano, dalla nostra capitale del nord, dalla nostra capitale della Padania. Oggi mentre a Roma ha giurato il governo Renzi, noi della Padania l'abbiamo chiamato il terzo governo di Merkel, mentre lì a Roma si fa un nuovo governo benedetto, perché è stato così benedetto da tutti gli organismi sovranazionali, ma non benedetto ovviamente dai cittadini poiché non ha ricevuto alcun voto, da Milano parte questo percorso, ripeto, culturale innanzitutto e poi politico e economico a mio avviso. Sarà uno strumento importante per tutti voi, sia il manuale che questa giornata, ma come si fa nei convegni seri, prima la parola la si dà a chi oggi ci ospita. Oggi ci ospita infatti l'ente provincia di Milano e allora a nome dei nostri territori, delle nostre amatissime province che qualcuno vuole cancellare, perché sono identità, sono territorio, sono democrazia dal basso e quindi sono ovviamente un ostacolo verso questi poteri sovranazionali. Ecco che lasciamo doverosamente la parola a un rappresentante della Lega, il capogruppo leghista qui in provincia a Milano, Gian Battista Fratus. Un applauso. Buongiorno e buona padagna a tutti. Io porto i saluti dalla provincia, Muritura perché oramai come sapete fra qualche mese non ci sarà più la provincia e questo bellissimo auditorium che ha ospitato l'inizio di tante campagne della Lega Nord diventerà di proprietà del Comune senza far nulla. Quindi tutto questo avverrà grazie a Monti, grazie a Letta e grazie al futuro Renzi perché così è. Senza una regolare elezione, senza dare il diritto di voto che noi cittadini abbiamo, questa provincia morirà e diventerà città metropolitana con un sindaco non eletto da noi ma che sarà Pisapia. E' questo bellissimo auditorium, come dicevo prima, che è stato il punto di partenza di tante battaglie della Lega Nord perché da Milano, da qua partivano le nostre battaglie. Oggi parte la battaglia del no euro. Io non sono un economista però so che da quando c'è l'euro siamo diventati tutti più proveri. Le nostre imprese hanno cominciato a fare fatica, sono addirittura i nostri imprenditori arrivati al suicidio. Quindi cosa possiamo dire? Possiamo dire che non vogliamo questo tipo di Europa, possiamo dire no euro. E oggi Matteo e il professor Claudio Borghi ci spiegheranno anche come economicamente si può dimostrare che senza l'euro la nostra nazione, il nostro territorio, soprattutto il nord, può risorgere. Quindi io vi do il benvenuto, spero magari con l'aiuto dei nostri senatori giù a Roma che riescono a fare qualcosa contro questa legge impossibile, incredibile e assurda, di poter riprendere e ripartire qua per altre campagne elettorali che ci porteranno al successo, alla sconfitta di chi anche con le bombe cerca di far tacere la nostra voce. Grazie e buon lavoro. Grazie a Gian Battista Fratus e ora prima di cominciare un po' di spettacolo, un bel video per raccontarvi l'euro. Non vedo ragione al mondo per cui possa convenire all'Italia non far parte dell'euro. Oggi se non facessimo parte dell'euro avremmo una inflazione sensibilmente maggiore, avremmo un'occupazione minore e avremmo una crescita ancora meno soddisfacente di quella al momento nulla o negativa ma in prospettiva positiva che abbiamo. Si presenta l'euro con una sorta di paradiso terrestre, arriveremo al paradiso terrestre, ma l'euro per noi, nella migliore delle ipotesi sarà un limbo e nella peggiore delle ipotesi l'euro sarà un inferno. Uscire dall'euro sarebbe un vantaggio o uno svantaggio? Sarebbe un disastro immediatamente. Il costo pagato dagli italiani sarebbe enorme. Pensate soltanto a tutto il tema del costo degli interessi, della stabilità economica, della stabilità monetaria che noi abbiamo avuto con l'euro, che noi abbiamo con l'euro e che non avremo nel momento in cui uscissimo dall'euro e per un paese molto indebitato come il nostro il valore dello spread schizzerebbe alle stelle a partire dal costo degli interessi sul debito. Insomma, moneta unica dell'eurozona, ma ciascuno deve essere in grado di provvedere a se stesso. Era davvero difficile che funzionasse e ne abbiamo visto tutti i problemi. Stiamo distruggendo le domande domestiche per la consolidazione fiscale. Allora, questa era la nostra copertina, la copertina di Telepadania dedicata all'euro, all'eurocrazia, a questa ortodossia degli euristi. Oggi saremo invece un pochino eretici perché invece che lasciare spazio subito ai protagonisti assoluti, che sono Matteo Salvini, il segretario federale della Lega, che è molto social e che è lavoro, e al nostro graditissimo ospite il professor Claudio Borghi Aquilini. Ecco, prima di lasciar parlare loro, che sono proprio i testimoni all'assoluti del nostro basta-euro tour, direi che poiché l'euro doveva essere quella moneta salvifica che ci avrebbe portato verso magnifiche sorti e progressive, per raccontare invece cosa è stato nella nostra quotidianità, cosa è stato invece per il nostro sistema produttivo, che era l'unico petrolio di questo nostro paese senza materie prime, vogliamo dare invece subito la parola a chi ogni giorno si confronta con l'euro e il mercato unico europeo. Lasciamo allora spazio a chi oggi è il titolare magari di un'azienda agricola. Lo sapete, con la PAC, la politica agricola comunitaria, si determina il destino del nostro sistema agricolo. Allora diamo spazio e voce a loro prima di cominciare. Chiamo qui sul palco con noi Alessandro Ciocca, titolare di un'azienda agricola della provincia di Bergamo, di Treviglio. Un applauso. Il palco, il palco. Buongiorno a tutti, mi sentite sì, grazie dell'ospitalità, come ha detto la Lussana, sono fuori provincia, dall'accento lo sentirete... Bellissimo accento eh. Va bene. Io lo adoro. E niente, come diceva lei, io sono titolare di un'azienda agricola, mi occupo anche di altro nella mia vita e ho tutti i giorni a che fare con imprenditori agricoli perché comunque l'altro, il mio secondo lavoro, mi porta a confrontarmi con questi imprenditori. Cosa c'entra l'agricoltura con la comunità europea e quindi con l'euro? C'entra perché, come ha detto la Lussana, siamo legati noi agricoltori con l'Europa attraverso la PAC. Cos'è la PAC? è praticamente la politica agricola comune. È stata creata inizialmente con un obiettivo e uno di questi obiettivi era assicurare i prezzi ragionevoli ai consumatori, cosa che, lo sapete benissimo voi, non è capitato. È nata ovviamente prima dell'ingresso dell'euro, poi con l'euro c'è stato quello che è successo. La PAC è fondamentale perché all'interno del bilancio della comunità europea ricopre il 35% di tutto l'introito. L'Italia versa nelle casse europee circa 16 miliardi. Praticamente i contributi italiani verso la comunità europea sono 16 miliardi. Quelli che vengono restituiti sono all'incirca 10 e il 50% poi viene erogato in contributi agricoli che sono PAC. Come vedete c'è una grande diversità tra quello che noi sborsiamo e quello che riceviamo. Perché ci sono queste due differenze? I motivi sostanziali sono due. Per effetto dell'allargamento dell'Unione Europea ad altri paesi, i cosiddetti paesi emergenti, i contributi di quei paesi considerati sani, che stanno bene, sono costretti a pagare un contributo in favore del paese svantaggiato. ne deriva che avremo la situazione inversa, ossia abbiamo dei paesi che versano nelle casse di Bruxelles meno soldi rispetto a quelli che introitano tramite contributi. Il secondo fattore principale che fa sì che questo delta tra quello che noi versiamo e quello che incassiamo tende ad aumentare la differenza è il fatto che alcune regioni dell'Italia, pur avendo a disposizione dei contributi, non mettono in atto alcune politiche per far sì che questi contributi vengano erogati alle aziende agricole. Oppure addirittura, se fissati per l'agricoltura, vengono utilizzati in altre situazioni, in altre materie. Giova ricordare che proprio ieri, visto che siamo a Milano e quindi abbiamo il Consiglio regionale della Lega, con la seduta numero 51 della Giunta Maroni, ha sostanzialmente dato l'ok per poter anticipare euro 300 milioni di euro come anticipo PAC, ossia la Regione si fa garante, anticipa nel mese di luglio 300 milioni che andranno a favore di 31.000 aziende agricole e la Comunità Europea poi restituirà i famosi 300 milioni di euro nel mese di dicembre. Ciò vuol dire che l'agricoltore già a luglio potrà disporre di una certa liquidità sul suo conto corrente ed eventualmente fare i suoi investimenti oppure pensare già alla prossima campagna agricola. C'è da dire anche quindi che questi sono i due fattori per cui questa differenza sta per aumentare. Abbiamo detto, o meglio, vi voglio dire che l'Italia è al terzo posto come contribuente rispetto all'Europa. Prima di noi ci sono Germania e Francia, però purtroppo l'Italia pur essendo terza come contribuente in termini assoluti non ha la stessa voce, non ha potere decisionale e politico assai pesante per poter modificare eventualmente il regolamento della PAC. Quindi viene demandato tutto ad altri paesi che anche sono in termini di economicità molto inferiori ai nostri. È di questi giorni la riforma di questa politica agricola comunitaria. Si andrà praticamente sostanzialmente a modificare il tipo di erogazione del contributo. durerà sei anni, praticamente andremo dal 2014 al 2020. Il primo gennaio entrerà in vigore questa riforma. Cos'è che c'è in particolar modo rilevante in questa nuova riforma? C'è un nuovo fattore che si chiama greening, greening o pagamento ecologico. Greening nell'inglese significa inverdendo. Infatti è nella politica della comunità europea arrivare ad obbligare gli agricoltori a diversificare il tipo di cultura o meglio, non parliamo della rotazione, nel senso la classica rotazione che per dire a marzo semino mai, se dopo l'anno dopo sullo stesso terreno posso seminare orzo o frumento, quindi una rotazione da cereale vernino a un cereale primaverile. Si tratta di obbligare un'azienda agricola a coltivare, a recuperare alcuni metri quadrati, alcuni ettari in questo caso, da dedicare ad una cultura diversa da quella principalmente utilizzata. Esempio, l'azienda agricola ha monocoltura che si dedica esclusivamente al mais piuttosto che al grano o piuttosto che al pomodoro. Per effetto di questa riforma sarà obbligata a dedicare un 10 o un 15% piuttosto che il 20% a una cultura diversa da quella che era abituata a coltivare in precedenza. addirittura per altre aziende agricole di maggiore entità correrà l'obbligo di impegnare il 5% che dopo diventerà nel 2020 il 7% della superficie aziendale da adibire a corridoi ecologici. Questo perché? Perché secondo la Commissione della Comunità Europea dovrebbe far bene l'ambiente. Secondo invece il mio punto di vista e quello degli imprenditori agricoli presenti nella pianura padana questo non funziona perché i problemi ambientali legati al nostro territorio sono ben altri. ad esempio il problema dei nitrati che equivale praticamente ai liquami o ai letami ecco giusto per chi non è del settore agricolo. È un vero problema, ci sono veramente aziende in difficoltà in questi giorni che corre il divieto di spandimento dei reflui e hanno causa le piogge incessanti fino all'altro giorno perché oggi è il primo giorno bello che ci ha regalato forse anche per questo incontro per il tasto Eurotour. Tanto un peccettino? Sì, sì, ti lasciamo chiudere. Va bene. Eh, respiro un attimo. Volevamo chiedere della direttiva Nitrati. No, no, va bene, dopo la direttiva Nitrati. La testimonianza è chiara. Ci piace. C'è la studentessa che preme dopo l'agricoltore. E quindi non vorremmo che la studentessa... Lasciamo stare quindi la direttiva Nitrati? No, la direttiva Nitrati, c'è lo speciale Nitrati da mezzanotte per chi si vuole fermare in questa sala e parliamo della direttiva Nitrati. L'abbiamo capita. In sostanza, cosa sta succedendo? Si sta facendo una riforma a favore esclusivamente di alcuni paesi che, guarda caso, hanno già queste condizioni qua in favore di questo benedetto verde. Cito dei paesi che potrebbero essere la Polonia, la Romania, ma anche la stessa Germania. Tutti quei paesi lì che godono di tanto verde e di piogge prolungate nel tempo e quindi non hanno bisogno di irrigazione come abbiamo bisogno qua noi nella nostra pianura. E quindi già adesso... Giusto? Quindi già adesso loro hanno già le carte in regola per poter accedere ai contributi. Cosa succederà per l'agricoltore che non intende adempiere a questi vincoli della comunità europea? Niente. Il 30% del contributo che già percepiva gli anni addietro vi verranno decurtati e se non si adegua da qui al 2020 prenderà anche l'ulteriore 25% del 70% rimanente. E pensare che questo greening era partito dal 2011 chi ha istituito questa riforma? È nata dalla Commissione europea che è costituita da una serie di tecnici, dal Consiglio europeo che è praticamente costituito dai ministri omologhi, quindi in questo caso dell'agricoltura, di tutti i 27 paesi che stanno intorno al tavolo a ragionare ed è stato fondamentale il passaggio in Parlamento perché quando è nata questa riforma era assai più severa del 30% di cui vi ho detto e del 25% di decurtazione. È stata modificata, smussandolo un attimino, ma secondo me va cambiata, grazie al Parlamento europeo. Ricordiamo benissimo che il Parlamento europeo è votato dal popolo e non è nominato da qualcuno più in alto. Quindi cosa ci resta da fare? Possiamo solamente metterci mano se riusciamo in questo lasso di tempo prima del primo gennaio oppure trattandosi di un mandato di sei anni, quindi 2014-2020, nel 2018 sarà previsto una sorta di tagliando del mandato. Intervengo per fare il tagliando, l'Unione Europea ci sta massacrando, viva l'agricoltura, viva la sovranità e vaffanculo Bruxelles. Niente. Grazie. Occio, eccola. Grazie mille ad Alessandro Ciocca. Nel frattempo la studentessa, non è studentessa segretario, si è già laureata, no nel frattempo. Con noi sul palco infatti vogliamo confrontarci con una giovanissima ex studentessa, perché davvero si è laureata da poco, è una neolaureata in lingue presso la Cattolica di Milano, un applauso a Martina Emisfero da Melzo. Grazie Aurora, buonasera a tutti. Mi hanno chiesto di fare un intervento per portare la mia testimonianza e mi sono domandata in questi pochi minuti di preparazione quale potesse essere la mia testimonianza, io che di politica monetaria non capisco veramente nulla, perché appunto, come ha ricordato Aurora Lussano, sono laureati in lingue. Allora ho pensato di raccontare quello che vivo sulla mia pelle da neolaureata e da lavoratrice in cerca di ricollocarsi. Devo ricollocarmi perché il mio contratto di lavoro è in scadenza. Ho 27 anni, sono laureata in lingue, ho un'esperienza lavorativa di 4 anni e ho tentato in questi ultimi mesi di piazzare un po' i miei curriculum su vari siti per cercare appunto una nuova posizione lavorativa. E purtroppo sto notando che la difficoltà, che non è solo mia ma che penso sia comune a tutti i ragazzi che più o meno hanno la mia età e che si trovano nella mia stessa situazione, è quella di rispondere a delle richieste che variano da top management a stagisti. Io posso fare la stagista a 300 euro al mese, nonostante il mio lavoro adesso mi garantisca un introito abbastanza corposo e che sicuramente mi permette di vivere la mia vita in maniera degna. Posso fare la stagista, però purtroppo la mia laurea non mi permette di fare la stagista, perché se sei laureato da più di sei mesi non puoi intraprendere un percorso di stage. E quindi ho fatto tantissime application per tantissimi tipi di lavori, però le aziende non hanno mai risposto. Quest'Europa però ci dice vabbè se non trovi lavoro in Italia prova all'estero, prova in Europa, prova in Inghilterra, prova in Spagna, prova in Francia, sono laureata in lingua e dovrei avere anche un canale preferenziale. Peccato però che la crisi non è solo in Italia, è la crisi europea, quindi evidentemente gli inglesi prima assumeranno un inglese, prima di assumere un'italiana che seppur con una laurea non parlerà mai l'inglese in maniera così fluente da poter ricoprire qualsiasi posizione disponibile. E quindi la mia domanda è, che poi giro ai relatori, magari potrà, sicuramente il professor Borghi risponderà durante il suo intervento, cercano di trattarci come se fossero, noi non siamo europei come gli americani sono statunitensi, abbiamo un problema importantissimo che è una lingua che non tutti purtroppo conoscono e conoscono bene. Ci dicono che possiamo ricollocarci, possiamo cercare lavoro in altri paesi d'Europa, però poi effettivamente non è così. Le application sul sito della comunità europea sono in un inglese spesso incomprensibile per una persona che non ha la fortuna di essere madrelingua o comunque di essere laureata in lingue. Quindi sulla mia pelle vivo questa situazione. Quindi oltre alla moneta unica c'è anche il problema del lavoro. Il lavoro che per noi giovani in Italia non esiste, ma che non esiste neanche in Europa. In America non si può andare, in Australia è troppo lontano, quindi cosa dobbiamo fare? Come ci dobbiamo comportare? Grazie mille. Grazie Martina. Prodi ci aveva detto che saremmo andati verso l'occupazione piena, vabbè, sbagliare a Martina evidentemente, hai ragione Prodi, ovvio. Dopo il mondo agricolo, dopo questa bella testimonianza di una neolaureata nell'Europa delle opportunità, lasciamo spazio a chi ogni giorno fatica con un lavoro manuale, un applauso a un operaio elettricista, Carlo Ribolla. Prego. Buongiorno a tutti, io sono Carletto Ribolla, come va detto sono un operaio elettricista, lavoro presso lo stabilimento Ex Invernizi, che ora fa parte del gruppo Galbani, acquisito dalla Catalissa. Come non so quanti di voi lo sanno, però entro la fine dell'anno hanno annunciato che il nostro stabilimento chiuderà e verremmo dislocati in altri stabilimenti. Giusto per essere in tema dell'occupazione, noi viviamo questo problema proprio perché dicono, almeno dal comunicato, dell'amministratore delegato, dice che per contenere i costi sono costretti a contenere i costi, visto che in ambito delle vendite c'è un calo notevole dei consumi. Per cui gente che non lavora, gente che non compra, se la gente non compra noi non lo riusciamo a produrre, Galbani non fa fatturato, di conseguenza è costretto a licenziarci. All'interno della nostra fabbrica ci siamo un po' dissociati da quello che è il normale percorso che fanno i sindacati. Non me ne vogliono se c'è qualcuno. Per una ragione molto semplice, perché loro individuano in questi momenti la solita linea che è quella di barattare il grado di perdita dei diritti dei lavoratori. Siccome io da qualche anno seguo ambienti economici, parlo di MMT, mi riferisco a Paolo Barnard, io ci sono entrato in questo modo, Warren Mosler, eccetera, per cui sono riuscito a comprendere che non è necessario continuare a lemosinare con questi colossi industriali che a un certo punto per necessità, per capriccio, io non so per quale motivo loro lo facciano, decidono di creare queste situazioni drammatiche a livello familiare e di lavoratori. So che a livello di Stato è possibile risolvere questi problemi semplicemente, e il Borghi me lo confermerà, tornando ad avere la sovranità monetaria e gestire l'economia in funzione dei cittadini. Termino brevemente facendo dei ringraziamenti innanzitutto a Salvini per essere stato disponibile lunedì, perché lui è venuto ai cancelli di Caravaggio nonostante tutte le difficoltà e i problemi che ha incontrato. Siamo molto grati perché lui ci ha ascoltato, ha promesso di dare continuità, l'ha mantenuta, perché oggi mi ha dato la possibilità di parlare a voi. Ringrazio voi per avermi dedicato un attimo di tempo e speriamo che si porti in porta. Grazie. Grazie davvero a Carlo Ribolla. Io i vostri prodotti cerco di comprarli, così almeno mi auguro che l'azienda rimanga a Caravaggio e che dia occupazione. Ci impiego tre ore a fare la spesa perché sto lì dove lo fanno, chi lo fa. è consumo critico. E che a volte manca l'etichettatura quindi non si capisce neanche da dove li fanno. Però se c'è scritto Bergamo li compro. Allora, dall'agricoltura al mondo dell'università a che ogni giorno faticano un'azienda fino al mondo di chi si occupa magari grazie a incarichi accademici ma che ogni giorno si confronta sulla responsabilità sociale delle imprese. Lui è un esperto di valorizzazione territoriale di media e di entertainment. Lui si occupa anche di finanziamenti comunitari. È un manager culturale internazionale. Un applauso al professor Marco Eugenio di Gian Domenico. Grazie. Allora, buonasera a tutti. Grazie per l'invito. Ringrazio la bellissima speaker anche Matteo che è la mente il professor Borghi e la provincia. Nulla, io sarò breve perché poi abbiamo diciamo delle relazioni che entrano sul tecnico. Io voglio sollecitarvi su due punti importanti. Il primo è il seguente quando un sistema non funziona va cambiato. Questa cosa sembra complicato ma ci proviamo. Questa cosa tra l'altro ecco io adesso faccio anche un momento di promozione permetto ho fatto questo libro che è uscito due settimane fa che parla di management etico per Giuffreditore verde in linea mi sembra anche con i colori c'è un problema di etica del cambiamento il non cambiare diventa un problema etico e questo anche poi nel mondo aziendale nella disciplina aziendale si fa una strategia la strategia va attuata va monitorata se non funziona va cambiata ora euro è una parola grande comprende un mondo non è solo una moneta ma è una serie di macrosistemi concettuali e non solo però sicuramente dico a questo punto anche una mia opinione personale le ipotesi paventate all'inizio erano diverse cioè i consensi hanno fatto base e riferimento a situazioni differenti che si sono dimostrate differenti quindi alla luce di un'applicazione che è stridente occorre fare il cambiamento e io tra l'altro tra i miei ospiti c'era che adesso non lo vedo neanche dove è il presidente del cenacolo Bagutta che è uno dei cenacoli intellettuali più importanti di Milano che avrebbe se c'è qui non so se c'è Marco ecco li vedo laggiù magari dove c'è un problema sull'immersione per esempio dei talenti artistici l'Italia è prima nel mondo sul Made in Italy se noi non permettiamo il finanziamento e quindi un sistema monetario che aiuti l'emersione dei talenti sicuramente abbiamo un danno irreparabile quindi questo è il mio messaggio e non voglio rubare la scena a chi ne ha più detto e me il mio è un saluto complimenti e dai vediamo ok? Grazie Grazie Concludiamo allora il nostro percorso che è servito secondo me per documentare poi chi si confronta ogni giorno concretamente con il mercato comune europeo e lasciamo la parola a chi ha magari anche dei dipendenti a cui rispondere a chi magari ha una piccola impresa e anche oltre alla responsabilità magari del suo fallimento ha su di sé la responsabilità di far fallire delle famiglie quindi un applauso a un imprenditore che oggi ci mette la faccia e qui con noi Gianpaolo Pesenti eccolo qua anche lui da verde Ricordiamo a chi ci sta seguendo via streaming in diretta radio e soprattutto fuori che magari rumoreggia che la sala adesso è piena lo posso testimonare anzi c'è gente stesa per terra rampicata sulle pareti fatevi sentire così almeno nessuno ha il dubbio che non ci siano più posti più posti dentro molto brevemente vorrei portare la mia esperienza la mia azienda è una piccola azienda di otto dipendenti ho una tradizione di 55 anni quest'anno facciamo il 55esimo e ci confrontiamo con tutto il mondo perché l'esportazione va dagli Stati Uniti alla Russia dal Polo Nord all'Australia sicuramente dall'inizio da quando giovane 25 anni giravo in Nord Europa in cui il primo plus che avevamo oltre al fatto di fare un prodotto tecnologico perché facciamo meccanica ma meccanica diciamo che va all'utilizzatore facciamo utensileria il primo plus che avevamo era il fatto che comunque non avevamo concorrenza oppure la concorrenza era la Germania tipicamente forte nel prodotto della meccanica per cui non avevamo una concorrenza di prezzo ma si parlava di qualità e tuttora ci basiamo facendo la qualità come diceva prima il professore bisogna comunque continuare a innovare per cui abbiamo continuato sulla strada di innovazione solo che dal 94 più o meno quando ho iniziato io la mia attività all'interno dell'azienda oggi facevo l'esempio della Svezia la Svezia ha iniziato a produrre quello che producevamo noi con la stessa qualità perché in ogni caso i macchinari sono gli stessi per tutti con l'unica differenza che un paese nord europeo con uno stato sociale avanzato con dei costi che dovrebbero essere teoricamente o lo erano superiori ai nostri in questo momento ha una buona organizzazione e ha dei costi sociali e del lavoro molto inferiori ai nostri e ha svalutato del 40% esatto sì ringrazio il professor il professor Borghi perché loro hanno la corona svedese non hanno l'euro diciamo che quello che ha detto il professor Borghi è esatto e è una delle ragioni confrontandosi comunque in Europa con l'euro dal 2001 in avanti sicuramente abbiamo continuato a perdere competitività perché oltre a una tassazione eccessiva che adesso anche con il governo Monti eletta è andata fuori da ogni senso perché comunque chi fa azienda ha anche piccole aziende e ricordiamoci che nel nostro paese nella nostra realtà soprattutto qua al nord il 95% delle aziende sono piccole aziende che arrivano a 3, 4, 5 dipendenti hanno sobbarcato di costi come la lici l'imu e poi via dicendo la tares e poi quest'anno non si sa cosa ci sarà la tasi probabilmente per cui sono dei fardelli che piccole aziende fanno fatica a sopportare per cui cosa succede che oltre alla crisi che abbiamo avuto dal 2009 che non ci ha permesso di fare investimenti per un certo periodo ora questo carico questo fardello continua a non permetterci di fare investimenti e come diceva il professore che mi ha preceduto non ci permette di essere competitivi e competere con la Germania piuttosto che magari i paesi dell'Europa emergenti come la Polonia piuttosto che i mercati diciamo con la tradizione io parlo per il mio settore la meccanica comunque sono abbastanza evoluti il problema è che il nostro sistema paese non funziona per cui il problema e la soluzione forse ce la può dare il professor Borghi e speriamo di ritornare alla corona lombarda la corona padana non lo so grazie mille nel frattempo lei non chiuda mi raccomando tenga aperto e si fidi ha detto una cosa che è una realtà effettivamente stiamo veramente tenendo duro e ogni giorno che passa è sempre più difficile fare impresa e riuscire come diceva ci dia ancora un po' di fiducia e tenga aperto per favore grazie con Gianpaolo Pesenti si chiude così la nostra parte dedicata alle testimonianze autentiche di chi si deve confrontare ogni giorno con l'euro al di là dei politici e dei professori che adesso andremo a ascoltare però c'è un professore che ci ha raggiunto io lo vedo allora l'altro giorno Salvini è andato alle consultazioni con il neopresidente del consiglio Matteo Renzi e si era portato un libro se non sbaglio l'autore qui in sala lo vogliamo salutare no non è l'autore Bagnai va bene anche lui scusa tutti i professori non è euro no scusate ce n'è un altro applauso e comunque applauso anche al professor Bagnai che ci ha ispirato per tante tante parti della nostra economia che è in Francia in questo momento che ci ha concesso un'intervista bellissima alla Padania non parli grazie i professori no euro adesso noi sulla Padania li raccontiamo tutti i giorni dopo lasceremo la parola ovviamente a Borghi però mi sembra corretto visto che in questo periodo abbiamo questo bel manuale che dovete leggervi studiarvi 31 domande e 31 risposte non mi sembra male abbiamo ovviamente il professor Bagnai questo bellissimo libro abbiamo con noi Rinaldi che sulla Padania ci ha raccontato tante cose interessanti bisogna metterci anche un po' di impegno secondo me a comprendere questo strumento di dominio che è la moneta unica quindi prima di confrontarci sui temi un po' più complicati magari ancora un po' di spettacolo con un altro video per introdurre questa seconda parte silenzio in sala perché parla il padrino dell'euro vi ho detto tutto ascoltiamo e qual è la manifestazione più concreta del grande successo dell'euro la Grecia il mio paese in questo periodo confronta molti problemi economici gli stupendi sono abbassati abbiamo preso molti prestiti e stiamo per fallire allora credo che l'euro finalmente sopravviverà che cosa penso sinceramente che l'euro resisterà perché nessuno ha interesse a buttarlo a mare vedete il populismo trionfo i politici compiacciono il loro elettorato ma quando arriviamo al sodo la comunità degli affari tedeschi non ha nessuna intenzione di abbandonare l'euro Mario Monti è una persona che sta che ha ridato autorevolezza e prestigio all'Italia è un dato indiscutibile io credo che lui sia naturalmente chiamato a svolgere un ruolo o nelle istituzioni italiane ma a un alto livello certo non a fare il ministro a Renzi o a Fano o nelle istituzioni europee nelle quali è particolarmente rispettato non dobbiamo sorprenderci che l'Europa abbia bisogno di crisi e di gravi crisi per fare passi avanti i passi avanti dell'Europa sono per definizione cessioni di parti delle sovranità nazionali a un livello comunitario we are actually destroying domestic demand through fiscal consolidation la documentazione che vi è stata offerta oggi i professori che scrivono di euro ci sono e sono tutti degli straordinari economisti però servono anche delle battaglie politiche a volte per valorizzare lo straordinario lavoro di economisti o intellettuali serve sempre un po' il politico coraggioso secondo me che poi impone all'agenda politica e culturale di un paese un problema come quello della moneta unica che ripeto era un totem intoccabile sacrale e allora l'eretico ce l'abbiamo qua oggi ve lo presento subito con ve lo presento con le sue parole lui dice basta pensiero unico basta moneta unica basta euro Matteo Salvini allora grazie grazie a chi è qua mi metto la sveglietta sul telefonino 19 minuti così sapete di che morte dovete morire grazie a già del folle però la storia la cambiano i folli non la cambiano quelli che ragionano in maniera lineare portare mille persone il sabato pomeriggio a parlare di euro e di moneta a Milano è una cosa da folli quindi il primo applauso è per voi e per quelli che ci stanno sentendo da casa perché perché non siete normali però non ci piace essere normali un ringraziamento anche alla ragazza che ci dà una mano con la lingua dei segni per permettere anche a chi segue via web e via streaming questa iniziativa e da qua parto oggi parte la battaglia per le diversità lascio i temi economici al professore ormai solo i cretini o quelli in mala fede possono sostenere che l'euro vada bene così com'è non so se quelli che avete visto prima siano cretini o in mala fede però lascio lascio a voi la scelta il taxista il benzinaio l'edicolante la partita iva il cassi integrato l'esodato chiunque si è reso conto che rispetto a 12 anni fa le promesse fatte non sono state mantenute e abbiamo perso diritti abbiamo perso stipendio abbiamo perso pensione abbiamo perso aziende quindi però dirlo è un atto rivoluzionario dire quello che pare ovvio diceva Orwell che nel momento dell'inganno universale dire la verità è un atto rivoluzionario io oggi prima di venire qua ho guardato i telegiornali e devo dire che mi sono vergognato da giornalista della stragrande maggioranza dei giornalisti italiani nel senso che Goebbels avrebbe avuto da imparare da questo ministero della propaganda che ci vende quello che è un governo sola un governo bufala un governo carnevalesco come qualcosa come ci sono le donne uh ha trovato delle donne e fra le donne ce n'è una incinta uh state tranquilli nel governo di Renzi c'è una donna incinta quindi i problemi dell'Italia sono risolti fa niente se poi la donna incinta è amica dell'amica 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 e non è la donna incinta dei quartieri popolari di Milano di Torino di Roma o di Padova ma è la donna incinta dei quartieri chic che non ha i problemi delle donne incinte normali diciamocela tutta e non penso sappia quanto costa il latte in polvere e non penso sappia quanto costino i pannolini però per dire che stanno stanno creando un mostro dal mio punto di vista io sono andato ad ascoltarlo sono peggio di Monti e di Letta perché almeno quelli erano antipatici lo vedevi questo è ne hanno scelto secondo me hanno fatto un casting io me li vedo di notte a Berlino a Bruxelles o a Washington chi troviamo per fotterli stavolta abbiamo provato con quello della Bocconi non è durato tanto abbiamo provato con un altro brava persona modesto parla bene non è durato tanto ci vuole qualcuno che sembri nuovo qualcuno che è l'altra faccia della medaglia di Grillo perché poi alla fin fine il consenso lo portano tutti alla stessa fonte lo portano tutti dalla stessa parte e hanno trovato questo qua a Firenze e hanno trovato questo qua a Firenze che la prima cosa che mi ha detto quando sono entrato in ufficio da lui è Salvini io e lei sull'euro la pensiamo in maniera esattamente opposta io ho tirato un sospiro in sollievo perché ho detto mi sarei preoccupato se avesse detto il contrario politicamente viviamo un momento preoccupante e qua la smetto col sorriso perché sono veramente fortemente preoccupato c'è puzza di regime cerco di non usare le parole avanvera ma c'è puzza di regime c'è puzza di fregatura vogliono finire la partita ne hanno scelto uno simpatico che parla in Toscano perché devono finire il compito che ministro dell'economia hanno scelto il peggio del peggio del peggio è stato scelto con l'avallo di Berlino di Bruxelles costui ha lavorato per la banca mondiale per il fondo monetario internazionale per la commissione europea per il fondo monetario internazionale si occupava della Grecia toccatevi perché però è lì e le parole che arriveranno nei prossimi giorni ci scommetto due euro anzi duemila lire privatizzazioni e liberalizzazioni fanno rima con fregatura sono pronti a svendere gli ultimi pezzi di aziende sane rimaste in Italia Eni Enelf in meccanica tutto quello che è ancora un prezzo sono pronti a regalarlo perché è arrivato Renzi perché deve finire con i saldi e io sono preoccupato sono preoccupato perché ci siamo noi a dire certe cose 1633 che il sole sia centro del mondo e non si muova è preposizione assurda falsa ed eretica contraria alle sacre scritture che la terra non sia al centro del mondo e che addirittura si muova è preposizione assurda e falsa per questo ti condanniamo al carcere e per penitenza per tre anni tu una volta alla settimana dovrai recitare sette salmi penitenziali chi era il pericoloso sovversivo che osava sostenere che il sole era fermo ed era la terra che girava era Galileo Galilei che infatti il 22 giugno del 1633 disperato disse io abiuro maledico e detesto i miei errori e le mie eresie così non mi rompono più le palle questo lo aggiungo io dopo centottant'anni nel 1822 la chiesa riconosce che il sole è fermo e la terra gira dopo 359 anni dalla condanna dell'eretico Galileo nel 1992 la chiesa riabilita Galileo Galilei ora costui osservando con il suo dialogo sui massimi sistemi del mondo non aveva gli strumenti di misurazione nostra osservando nel 1633 disse ma secondo me anche se tutti dicono il contrario e guai a chi osa dire il contrario a occhio guardando le maree guardando intorno il sole è fermo e la terra gli gira intorno no se ci fosse stato porta a porta e fosse andato a porta a porta col plastico gliel'avrebbero gliel'avrebbero smontato perché non è possibile è una preposizione assurda falsa ed eretica devi abiurare devi recitare per tre anni i sette salmi penitenziali quindi che qua dentro per i prossimi tre anni deve dire l'euro fa bene l'euro fa bene l'euro fa bene l'euro fa bene almeno sette volte al giorno perché altrimenti finivi sul rogo dopo 359 anni hanno riconosciuto che il sole è fermo e la terra gira l'euro è una cagata l'euro è uno strumento di morte l'euro ha massacrato l'euro ha annientato decenni di sacrifici dei nostri padri e dei nostri genitori l'euro soprattutto l'euro soprattutto il furto più grave è il furto di speranza è il furto di futuro è il furto di dignità la cosa più grave è togliere la speranza ai ragazzi è gravissimo chiudere la Invernizi la Electrolux i 159 imprenditori suicidi ce li hanno sulla coscienza anche quei balordi lì che ci hanno infilato in un tunnel da cui però è questa la consapevolezza che ciascuno di voi deve avere si può uscire non c'è niente di irreversibile io spero che ci metteremo meno anni rispetto ai 359 di Galileo rispetto ad essere riabilitati anche qua anche perché secondo me abbiamo non so se abbiamo 359 giorni per salvare quello che rimane della nostra economia e del nostro futuro però quello che mi preoccupa i temi economici li lascio a Claudio Borghi che ringrazio perché si è messo a disposizione anima e corpo di un movimento di una comunità di sognatori e di matti come la Lega Nord non so chi gliel'ha fatto fare però lo ringrazio perché perché non gliel'ha ordinato il dottore e Libricino l'ha fatto gratis e quindi qua siccome ti chiedono fattura noi siamo contro le fatture a prescindere però ti chiedono fattura per qualunque cosa che accade al mondo Libricino l'ha fatto in gratis e se non l'avesse fatto gratis ci siamo trovati con dei contanti in nero all'autogrill di Fiorenzuola pur di dare un dispiacere allo Stato italiano evidentemente però detto questo siamo soli siamo soli contro tutti siamo soli contro l'informazione neanche neanche la propaganda fascista riusciva a far propinare e a far digerire agli italiani quello che stanno provando a fare questi Corriere della Sera Repubblica il Sole 24 Ore la Rai Mediaset sono tutti dalla stessa europarte sono tutti eurotruffatori alla stessa maniera non abbiamo niente da aspettarci da queste persone dobbiamo essere noi il megafono di noi stessi però abbiamo un vantaggio rispetto a tutte queste persone che hanno soldi hanno televisioni hanno giornali hanno lo spread hanno le agenzie ieri mi chiama un giornalista e ma lo spread ma pensate come pensate veramente lo spread ha accettato positivamente il governo Renzi chi è lo spread dove abita cosa che lavoro fa lo spread dove si sono ma si inventano e adesso se usciamo di qua io sono convinto che se andiamo in corso Vittorio Emanuele fra la gente che fa shopping che voi avete il dovere però di fermare uno per uno come i testimoni dobbiamo essere testimoni di Geova uno per uno fermarli con il libricino noi glielo diamo gratis abbiamo questo vantaggio dobbiamo far pensare la gente perché la gente che dice fuori veramente dopo il lavaggio del cervello pensa che il suo problema sia lo spread siano le agenzie di rating sia lo 0-1 ma un premier che dice è vero per la stabilità fiscale stiamo massacrando il mercato interno tradotto stiamo distruggendo negozi commercio artigianato turismo per la stabilità qualcuno mangia pane e stabilità stasera è un progetto il deserto economico ma soprattutto quello che mi preoccupa è il deserto delle idee dietro la moneta unica c'è il pensiero unico c'è il vestito unico c'è la musica unica i libri ti dico io che libri leggere i programmi televisivi ti dico io che programmi televisivi guardare le scarpe la scuola la famiglia basta con sta mamma e con sto papà che palle non è moderno basta l'Europa ha un altro modello di famiglia il genitore è uno due e poi se c'è anche il tre il quattro il cinque il sei è più bello e se qualcuno osa fare delle pubblicità tipo mulino bianco boom Barilla ma come ti permetti di fare la pubblicità con la mamma e il papà felici ci vogliono due mamme incazzate o è questo la moneta unica serve a imporre un pensiero unico serve a fare un'enorme marmellata noi non siamo marmellata noi non siamo marmellata e per assurdo è la Lega Nord per assurdo è la Lega Nord per l'indipendenza della Padagna che proverà a salvare tutte le diversità che ci sono in Italia tutte le identità tutte le lingue tutte le culture tutti i cibi dobbiamo difendere con le unghie e con i denti le diversità senza essere superiori o inferiore a nessuno dalla Valcamonica al Salento vogliono omogeneizzarci con lo stesso gusto in sapore in colore e in odore a me piacciono i sapori i colori e gli odori vogliono marmellatizzarci senza anima senza anima e senza il tempo di pensare quello che ci vogliono rubare è il tempo perché se tu non sai come arrivare a fine mese non sai se ce la fai a pagare il mutuo devi decidere se suicidarti o no e devi capire come riuscire a mandare tuo figlio a scuola e passi 22 ore al giorno a capire che futuro dare a tua moglie o a tuo marito alla sera a casa non hai tempo non hai tempo per pensare non hai tempo per fare politica perché secondo me Grillo è pericoloso perché chi dice la politica è tutta una schifezza senza la politica ci sono le dittature senza i comuni senza le province senza le regioni c'è il pensiero unico non siamo tutti uguali ci sono politici bravi e politici ladri ci sono gli idraulici che fanno fattura e gli idraulici che non fanno fattura lascio a voi decidere chi fa bene o chi fa male nei confronti di uno Stato che era pieno al 62% del prodotto di chiunque sia artigiano il pensiero dobbiamo avere il tempo la voglia e l'orgoglio di pensare io vi chiedo questo nei 90 giorni che mancano alle elezioni europee da stasera siete Galileo Galilei fuori di qua avete però il vantaggio abbiamo il vantaggio di dire la verità perché pensate che casino Renzi che sa che sta pigliando per il culo gli italiani ma deve far finta di fare il loro interesse pensate come si deve risintonizzare 18 volte al giorno per non ridere di fronte al governo che ha messo in piedi quando la Merkel lo chiama sei volte al giorno a chiedergli hai fatto quello che devi fare no no Angela faccio veloce faccio veloce scusa non ho ancora fatto in tempo pensate che vita che brutta vita sto tizio che che cammina sulle acque e guarisce gli ammalati però ha una brutta vita noi abbiamo il vantaggio di avere ragione però siamo eretici la terra è ferma è del sole che gira intorno alla terra l'euro non si discute hai chiuso fa niente sei uno sfigato tu non avevi voglia di lavorare non è colpa dell'euro perché l'euro va bene non si tocca non siamo soli ci sono i francesi ci sono gli austriaci ci sono gli olandesi ci sono gli svedesi ci sono i finlandesi e la prossima volta se ci rimandate a Bruxelles gli facciamo un mazzo così che al confronto le contestazioni dell'ultima volta saranno all'acqua di rose non so come si traduca in lingua dei segni un mazzo così però penso che possa essere comprensibile comprensibile ai più l'Europa ha niente alle diversità e oggi sono le diversità economiche ma domani sono le disabilità perché il disabile non produce produce di meno io sono terrorizzato quando mi confronto con degli esponenti di sinistra l'ultimo dei quali settimana scorsa tal Scalfarotto che mi diceva che mi parlava solo di mercato e di consumatori Salvini non puoi discutere l'euro perché l'Europa è un mercato di 400 milioni di consumatori detto da sinistra io non sono un consumatore ma sono un essere umano e non me ne fotte niente del mercato perché se il mercato ammazza la mia economia la mia agricoltura la mia pesca il mio artigianato se il mercato dice che il non vedente non mi serve sta a casa forse gli do 200 euro al mese anzi fra un po' magari tagliamo anche un po' le pensioni di accompagnamento gli assegni di accompagnamento perché questi 268 euro al mese sono un po' troppi perché il disabile non produce per il mercato insomma e poi se devo scegliere magari il disabile polacco mi costa meno rispetto al disabile italiano ci arriviamo ci arriviamo la gente che ragiona e lavora solo nell'ottica del profitto del denaro e del mercato è gente pericolosa è gente che vende sua madre per dieci in più noi dobbiamo difendere il nostro modo di lavorare di vivere di essere diversi nella fortuna e nella sfortuna senza negare tutti i problemi dell'Italia attenzione non è che facciamo la battaglia basta euro e poi l'Italia va bene così com'è in Italia c'è la mafia c'è la camorra c'è l'andrangheta ci sono centinaia di migliaia di forestali falsi falsi invalidi truffe alle assicurazioni spreco della pubblica amministrazione il triplo dei dipendenti pubblici nei comuni del sud rispetto ai comuni del nord il triplo di evasione fiscale nei comuni del sud rispetto ai comuni del nord tutto vero però ci sta crollando il tetto sopra la testa quindi prima devo puntellare il tetto squillato 19 minuti quindi devo andare a concludere prima devo puntellare il tetto sulla testa e il tetto si chiama veramente io penso che neanche Hitler e Stalin a pranzo insieme sarebbero riusciti a inventare un meccanismo così diabolicamente genialmente strutturato come l'Europa della pace dei popoli del mercato dei diritti ci stanno rubando uno per uno tutti i diritti lo sentivo dal lavoratore della Invernizzi ci stanno portando al ribasso 100 euro in meno se vuoi lavorare se no vanno in Polonia 6 euro all'ora se vuoi lavorare in una cooperativa se no ne trovo 20 che ne prendono 5 di euro all'ora e poi togliamo un po' di assistenza ospedaliera poi abbassiamo ancora un po' le pensioni poi perché andare in pensione 70 anni insomma 80-85 il mercato ha bisogno di giovanotti di 85 anni che continuino a lavorare occupando posti di lavoro per quei 25 anni che poi aspettano i 60 per cominciare a lavorare è un progetto di omogeneizzazione l'Italia e il nord in particolare devono diventare solo un supermercato dove voi siete liberi di decidere che tipo di yogurt comprare che tipo di scarpe da tennis comprare non prodotte in Italia l'importante è che non siano prodotte in Italia ovunque ma non in Italia così non c'è lavoro non c'è futuro non c'è dignità non c'è speranza ce ne siamo accorti per tempo nel libricino datelo non datelo ai leghisti vi chiedo solo questo non mettete in mano questi strumenti di verità e di controinformazione a chi ha già capito datelo in mano a chi magari in buona fede sono decine e milioni di persone e ma non si può il Tg1 mi dice che non si può il Tg1 dice che se esco dall'euro mi rubano la macchina e quindi non esco dall'euro il Tg1 dice che mi portano via la casa in montagna che mi hanno comprato i genitori il Tg1 dice che far benzina costerà 37 euro al litro quindi magari avete ragione però non si può perché il Corriere dice che il governo Renzi è una figata perché il sole 24 ore era quello che titolava fate presto quando ha aperto la strada a Monti è già uno che titola fate presto e poi arriva a Monti dovrebbe chiudere la testata e scapparsene per la vergogna perché perché non c'è altro da dire chiudo chiudo con l'invito a essere una comunità che resiste abbiamo un vantaggio rispetto agli altri abbiamo capito mille persone qua dentro e 10.000 alla radio e 10.000 collegate via internet e tutte le altre che incontreremo nelle tappe dopo questa a Torino a Genova a Reggio Emilia a Padova a Bergamo a Udine a Roma dobbiamo essere moltiplicatori dobbiamo essere tanti Tg1 che parlano di quello che c'è scritto nel libretto sull'autobus imposta dal panettiere dobbiamo contagiare il 25 maggio non ci sono elezioni il 25 maggio c'è un referendum o si vive o si muore non c'è la via di mezzo il 25 maggio non c'è il simbolo della Lega sulla scheda elettorale il 25 maggio o l'Europa va avanti così e andiamo a morire nel mercato dei consumatori e degli yogurt scaduti oppure riprendiamo orgoglio sorriso speranza futuro forza lavoro è un referendum tutti gli altri partiti la pensano in una maniera sull'euro c'è un movimento di matti di folli di sognatori di rompipalle hanno provato a farci fuori non ci sono riusciti siamo qua siamo più vivi e forti di prima diamoci una mano io non abiuro il rischio è rogo se io penso di aver ragione o ho ragione io vado sul rogo non striscio non sopravvivo non tiro a campare non abiuro e quindi se ci diamo una mano se ci date una mano ci prenderemo delle grandi soddisfazioni la più grande soddisfazione quando avremo vinto perché l'enorme bugia questa bugia nazi comunista dell'euro delle banche del mercato della finanza dello spread e non si tocca e se lo dite siete xenofobi euroscettici brutti cattivi e puzzolenti e non vi lavate i denti abbiamo ragione abbiamo ragione la più grande soddisfazione sarà appunto andare al Tg1 siccome quando vinceremo perché abbiamo ragione al Tg1 in 12 ore gli eretici saranno gli altri e quindi ad abiurare noi l'abbiamo sempre detto noi al Corriere della Sera abbiamo sempre sostenuto che fosse la Terra a girare intorno al Sole perché era evidente che era la Terra noi sempre abbiamo detto che l'euro era una cazzata sì abbiamo fatto 618 articoli di fondo dicendo il contrario però per distrarre un po' per calmare le acque siamo in battaglia comincia con oggi per quanto mi riguarda la lunga marcia di Mao che da una disfatta totale trasformò in sconfitta per gli altri quella che diventò la sua vittoria perché invece di arretrare di arretrare di arretrare decise sai cosa c'è siamo rimasti in 50.000 se andiamo avanti ad arretrare domani saremo 40.000 30.000 20.000 siamo finiti invece di andare a sud andiamo a nord andiamo verso il nemico invece di arretrare giochiamocela siamo in 50.000 non siamo in 5 abbiamo ragione sono andati verso il Giappone e gli hanno fatto un mazzo così ed è cominciato quello che è cominciato al di là delle ideologie non mi interessa però la storia insegna che quando arretri per difendere il poco che ti è rimasto sei finito quando ti è rimasto poco ma hai le palle hai voglia di lavorare hai coraggio devi andare all'attacco non devi scappare verso sud devi correre verso nord e riprenderti il tuo futuro quindi se stiamo insieme ci toglieremo delle belle soddisfazioni io vi saluto vi ringrazio portate via tutto il materiale che c'è qua e datelo anche nei posti più impensati su Facebook mi scrive la gente più impensata più lontana dalla Lega la soddisfazione più grande è quando mi scrivono sono preoccupato perché mai nella vita avrei pensato di dare ragione a un leghista però e sono le cose più belle perché in Italia abbiamo le tifoserie destra, sinistra, Milan, Inter puoi dire le cose giuste ma se hai l'etichetta sbagliata invece stiamo sfondando questo muro quindi al di là della Lega è una battaglia di civiltà di onestà di verità di lavoro di speranza quindi la cosa più bella andate nei posti più impensabili magari non nel corteo Notav che sta passando di qua perché secondo me non c'è un dibattito politico-economico sufficiente ancora sviluppato in quel contesto però andate ovunque per portare questa voce di verità e per quanto riguarda Renzi il primo giornalista mi ha chiesto ma chi le fa venire in mente io quest'estate mi sono riletto e chiudo la fattoria degli animali e c'era il capo dei rivoluzionari che poi una volta vinta la rivoluzione un quarto d'ora dopo si è trasformato nel capo degli anti-rivoluzionari e dei massacratori degli ex-rivoluzionari mi ha tanto quell'idea lì lancia in resta e poi una volta arrivato a un minimo di potere era un maiale si chiamava Napoleon quindi non non voglio con questo mancar di rispetto a nessuno ci mancherebbe altro però a passare da rivoluzionari a contro rivoluzionari in un quarto d'ora la storia insegna nel nome del potere ci vuole poco grazie viva la Lega e la vinciamo grazie 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 a Matteo Salvini prima di continuare voglio lasciare però spazio a un graditissimo ospite siamo a Milano la nostra amata Milano che come sappiamo è la capitale nel mondo della moda del fashion del design quindi oggi abbiamo qui sul palco un protagonista assoluto di quello che è innovazione tradizione artigianato il tessile perché no anche la finanza e la creatività un grande applauso al Cavalier Boselli Boselli benvenuto presidente della camera della moda bene signore e signori buonasera grazie per l'invito perché ho accettato di buon grado nonostante la settimana della moda e le sfilate che sono una ogni ora e per questo motivo che vi prenderò pochi minuti perché per noi della filiera tessile abbigliamento moda l'euro è un tema fondamentale darò tre o quattro cifre per spiegare il perché noi diamo occupazione a 610 mila addetti in 70 mila imprese un fatturato di 60 miliardi di euro un export di 45 un import di 25 circa e un saldo attivo della bilancia commerciale che nel 2013 ha raggiunto la cifra record di 19 miliardi e 200 milioni quindi buono è lavoro è lavoro di quei 610 mila addetti 70% donne e quindi devo dire una filiera di gran qualità diciamo anche che da soli noi abbiamo gli stessi occupati degli altri 26 paesi della comunità europea messi assieme vorrà dire qualcosa detto questo detto questo noi perché evidentemente diamo un'importanza fondamentale al problema dell'euro perché noi siamo obbligati a esportare 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 viene fuori dalle cifre che ho detto prima anche perché il mercato interno è quello che è e purtroppo anche se noi vediamo qualche timido segnale non crediamo che nell'immediato futuro il mercato interno possa svilupparsi quindi noi dobbiamo esportare perché esportare significa lavoro indotto e quindi possibilità per i lavoratori e per le aziende di investire i lavoratori spendere perché questa è una legge molto chiara visto che il mercato interno non tiene andiamo all'estero all'estero dove ma noi abbiamo delle zone del mondo che crescono i paesi BRIC ce ne sono due Cina e Russia che sono importantissimi per le nostre vendite ma anche l'America ha ripreso a consumare e l'Europa del nord tanto male non va l'aspetto più debole siamo proprio noi perché a questo punto il tema dell'euro è fondamentale vi dico solo alcune cifre vado a memoria ma non sbaglio di tanto prima di tutto noi siamo entrati nella parità con un cambio euro lira di 1936 27 credo che siamo lì quindi già lì c'è stato il primo errore perché quel cambio era un cambio iniquo quindi è stato mal negoziato dopodiché molti di voi forse ricorderanno con quale parità noi siamo entrati nell'euro noi siamo entrati nell'euro con la parità di 1 18 20 1 18 20 poi c'è stato un certo andamento per cui la parità è addirittura andata sotto lo zero a 0 88 verso il dollaro verso il dollaro sempre verso il dollaro il riferimento oggi a quanto siamo a 1 37 è una cosa assurda allora ma è assurda perché oggettivamente la storia stessa nega che questo sia un cambio accettabile il problema però qual è è che a mio giudizio e qui sono convinto che sono cessati gli applausi ma per onestà intellettuale devo dirvi come la penso io non ritengo che sia né facile né possibile uscire dall'euro però però c'è un però noi dobbiamo agire in un modo molto preciso noi dobbiamo portare la banca popolare europea a cambiare le regole oggi le regole sono lei mi corregga quelle della difesa del valore interno della moneta e quindi inflazione la stupiremo ecco dopodiché dopodiché noi non ci preoccupiamo della parità esterna appunto quella euro-dollaro e quindi dobbiamo cambiare quello noi dobbiamo cambiare il mandato alla BCE per obbligarle anche a considerare non solo il valore interno ma anche quello esterno conclusione e qui vi tolgo solo ancora un minuto io sono personalmente convinto poi per carità ognuno ragiona con la propria testa però è la linea della Camera Nazionale della Moda Italiana che se noi avessimo un euro-dollaro uno-uno che vuol dire anche poi il cambio con i red mimbi quindi con la moneta cinese con quelle importazioni che ci possono fare anche tanto male noi con un euro o uno-uno potremmo anche convivere questo è il mio parere mi spiace se non sono totalmente d'accordo con la sua eliminazione daremo di meglio dell'uno-uno non si preoccupi verrà perdonato quando fra venti minuti ci manderà una ventina di modelle questa è difficile questo è difficile bene allora vi ringrazio molto vi ringrazio molto per questa accoglienza cordialissima vi auguro ogni bene sappiate che io sono un lombardo ex imprenditore perché oggi imprenditore è mio figlio è la mia famiglia ma noi abbiamo cominciato a fare impresa a Garbagnate Monastero nel 1586 e siamo arrivati fin qui quindi auguri auguri a voi e al vostro successo grazie davvero ci tengo a dire al presidente della camera della moda che a noi interessa discutere quantomeno che se ne parli perché la cosa per noi inaccettabile è che non se ne possa neanche parlare poi ognuna le sue idee le sue teorie però che almeno ci sia il diritto di parlarne grazie dottor Boselli dopo questa bella testimonianza del presidente della camera nazionale della moda noi ritorniamo ad occuparci e lo so che mi sa qua qualcuno si era anche illuso che arrivassero due fotomodelli a sfilare non creiamo queste illusioni però vi stupiremo invece perché continua continua invece la nostra parte audio video un altro momento un piccolo racconto che noi di Telepadania vi vogliamo fare su chi alla fine ci ha guadagnato davvero sull'euro silenzio e buio in sala l'euro è il condensato è la punta dell'iceberg di questo modello che è riuscito in parte magari in piccola parte persino a trasformare in parte la Grecia mai e poi mai la Grecia avrebbe fatto qualche progresso mai e poi mai l'Italia se non fosse stato per l'entrata nell'euro avrebbe fatto molti progressi verso un'economia più ordinata questa mattina ho telefonato Angela Merkel abbiamo parlato lungamente della situazione tedesca e della situazione europea le ho formulato le congratulazioni e gli auguri per un successo una vittoria che la situa oggettivamente tra i grandi di Germania noi abbiamo portato la lira nell'euro con la sinistra nel governo un successo del partito anti-euro in Germania sarebbe stato un disastro per l'Europa per l'Italia ma vorrei dire anche per la nostra cooperazione globale non riesco nemmeno a capire la politica tedesca cioè lei ha un paese la Germania che ha un attivo nella bilancia commerciale impressionante per unità di reddito superiore a quella della Cina cioè la vera Cina oggi è la Germania e quindi la Germania in realtà ha avuto credo un successo ancora una volta nell'export perché è fortissima nell'export la Germania nell'export della propria cultura economico istituzionale straordinario e non lo rivendicano abbastanza i tedeschi non ammettono che sono investimenti che sono negli interessi della Germania nessun paese trae maggior profitto dall'Unione Europea della Repubblica Federale di Germania nessun paese ha un vantaggio maggiore dall'euro e dal mercato unico che la Germania quindi non dobbiamo far finta che fossero delle elemosine questi dobbiamo dire chiaramente sono investimenti che facciamo nel nostro proprio interesse però non lo diciamo ha inflazione quasi zero ha crescita zero allora non dà vigore alla propria economia perché la dottrina sua in questo momento dal punto di vista politico si dice ma se facciamo questo è come se noi ci accodassimo ai fanulloni dell'Europa del Sud allora posso fare solo una piccola introduzione nei giorni scorsi nella Padana abbiamo fatto un'intervista al professor Borghi Aquilini proprio alla vigilia della prima tappa a Firenze in questa bella intervista ci ha raccontato anche un risvolto umano che ci racconta che questo sodalizio qua economico politico fra Borghi e Salvini è anche umano e quindi credo che alla fine di tutto di come andrà se davvero riusciremo a uscire dalla moneta unica oppure no credo che questa bella relazione questa bella testimonianza questa scelta di condividere una battaglia comune sia apprezzabile perché in un mondo forse apolide immateriale si stanno sfilacciando anche un po' le relazioni umane quindi io da questa bella intervista ho avuto modo di conoscere il professor Borghi in questi giorni invece l'ho conosciuto dal punto di vista tecnico diciamo così col suo bel manuale di resistenza vi leggo solo una dichiarazione poi gli lasciamo la parola gli abbiamo chiesto noi della padagna professor Borghi ma allora vi sentite un po' in guerra con questo basta Eurotour noi siamo in guerra una guerra per ridare ai cittadini le chiavi di questo paese una guerra per la democrazia una guerra per la libertà grazie a voi grazie a voi perché perché mi dicevano parlare di economia saranno quattro gatti mai visti così tanti gatti e sì è vero è vero c'è un rapporto umano c'è un rapporto umano che è nato un'amicizia fra me e Matteo ma la storia e in generale qualsiasi impresa si cambia con le persone io a quelli che mi dicono così ecco perché era venuto fuori allora a chi mi dice ma caspita ma no ma la lega ma cosa vuol dire ma no ma la lega c'è il vero e il falso c'è il giusto e lo sbagliato non c'è la lega il PDL io ho parlato con tutti e mi ha ascoltato uno Matteo Salvini per cui non c'è lega o non lega però scusate io prima di iniziare a discutere perché siamo qua per discutere di economia io sono qua apposta per cercare di come dire iniziare a spiegarvi o a raccontarvi alcune cose che ci sono sul mio libretto ma soprattutto per qualcuno di voi che sicuramente qualche dubbio lo ha per cercare di convincere anche voi perché in realtà non stiamo parlando di formule matematiche di cose astruse stiamo parlando di logica di buon senso solo che è tanto incredibilmente forte questa macchina di propaganda mediatica su cui noi siamo stati immersi in tanti anni che facciamo fatica a capire anche le cose più banali e quindi il mio intento sarà esclusivamente quello di riportare i piedi sulla terra e di ragionare su cose banalissime però volevo se possibile rivolgere un pensiero per una volta a una persona che non c'è a una persona che se fosse stata qui avrebbe potuto sicuramente spiegarvi le stesse cose che vi spiego io mille volte meglio una persona che è morta prima di vedere l'euro e che è stato il primo professore che io incontrai in cattolica entrando da studente io entravo da studente e lui usciva da professore è Gianfranco Miglio indegnamente indegnamente tocca tocca invece a me spiegarvi alcune cose e quando si parla di moneta uno pensa sempre ma la moneta cosa vuoi che sia sarà mica importante io non non perdo sicuramente il mestiere perché c'è l'euro qualcun altro ha l'euro e lavora la Germania ha il mio stesso euro va bene cosa conta la moneta non è importante sono abituato lo uso per pagare qualche volta non lo uso neanche uso la carta di credito chi se ne frega non è quello sicuramente il problema sarà la corruzione sarà la casta saranno le tasse saranno i politici sarà la spesa pubblica improduttiva saranno 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 una serie di cose che magari effettivamente sono nocive e perché invece capita che uno a un certo punto si sveglia e dice signori stiamo affondando il buco nello scafo è quello lì e quindi bisogna smettere di parlare di tutto il resto prima di aver turato la falla perché anche io dormivo anch'io dormivo io ho iniziato a lavorare come fattorino qui in borsa di Milano mi presentavo fuori sperando che qualcuno dà la borsa sperando che qualcuno mi assumesse alla fine un pazzo che mi ha preso gratis l'avevo trovato adesso se uno della mia età all'epoca quando ho iniziato a lavorare 19 anni si presentasse davanti in borsa qua a Milano cosa trova? un dito medio di marmo che è un bel simbolo di quello che era una volta una delle industrie più grandi e più importanti di Milano quella della finanza ecco cos'è cambiato? qualcosa è cambiato non siamo diventati tutti scemi contemporaneamente della gente che ha delle imprese che sono aperte da centinaia d'anni non è diventata matta di colpo non ha disimparato a fare il suo mestiere cos'è successo? è possibile che si vada sempre a cercare cose che in tutta evidenza non sono cause del problema l'altro giorno era una tavolata con imprenditori e a un certo punto mi dicono no qui bisogna venirne fuori da questo sistema ho un grande progetto io ho tutto orecchie perché spero sempre che ci sia qualcuno che mi dica che ho torto ho un grande progetto si comincia dalla corruzione a quel punto mi hanno cominciato a prudere le mani quando ha fatto il giro di tavolo perché si comincia con la corruzione è arrivato il mio turno e gli dico scusate voi eravate attivi negli anni 80 e loro sì come andavano le cose benissimo benissimo anzi il mio capannone ne avevo uno in quegli anni lì sono diventati quattro abbiamo espanso tutta l'attività vendavamo in tutto il mondo andava benissimo e così via e scusi come era la corruzione a quei tempi corruzione sapessi ma lì adesso sì che controllano non si può fare niente all'epoca le mazzette proprio precise cioè si facevano i bonifici questo era esaltato ancora io lo guardavo così no come per dire felice no del giro di mazzettone che c'erano e io a un certo punto mentre lui parlava e stava lanciandosi in questa curiosa difesa di un periodo gioioso dove si buttavano via le mazzette io lo guardavo e gli dicevo non ti sarà forse venuto sospetto che la corruzione non c'entra nulla con quello che sta succedendo adesso sì forse ha ragione ah andiamo a cercare le cause perché la corruzione è una cosa pessima ma è come gli omicidi non è che se io domani elimino gli omicidi che poi dopo quelli che dicono elimino la corruzione come dire elimino gli omicidi voglio vedere come fanno ma non è che se io domani elimino gli omicidi la gente comincia a entrare nel nostro negozio no no quindi io quello che vi chiedo adesso è di fare un piccolo viaggio con me liberando la mente e cercando di non farci condizionare da quello che crediamo di sapere io cercherò di essere semplicissimo però seguitemi allora immaginiamoci due regioni che sono due stati diversi per comodità ve li associo a due cose che ci sono così non siamo troppo astratti immaginiamoci la Lombardia e il Veneto immaginiamoci la Lombardia e il Veneto che siano due stati indipendenti simili ognuno no ma attenzione so che vi piace l'idea senza dubbio infatti non a caso scelgo questo 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 esempio ma serve per far capire una cosa perché fino adesso l'errore clamoroso che è stato fatto è stato pensare che uno stato possa essere indipendente senza il controllo sulla moneta chi non ha il controllo della moneta non ha nessun tipo di indipendenza potrà fare solo l'esattore e adesso vi spiego perché immaginate una Lombardia e un Veneto che siano gli unici due stati al mondo esistenti indipendenti dove ognuno fa più o meno le cose che fa quell'altro ognuno si coltivano le pesche in Lombardia si coltivano le pesche in Veneto si fanno macchine in Lombardia si fanno macchine in Veneto si fanno panettoni in Lombardia si fanno panettoni in Veneto ogni tanto qualche Veneto va a fare il turista a Milano ogni tanto qualche Lombardo va a fare il turista a Venezia ecco questo è un mondo in equilibrio dove tutti si vogliono bene a tutti c'è pace c'è armonia e ognuno di questi due stati ha una sua moneta diciamo che la Lombardia ha lo scudo e diciamo che il Veneto ha il leone tanto per dare due nomi e valgono uguale uno a uno quindi dieci pesche in Lombardia costano dieci scudi dieci pesche in Veneto costano dieci leoni no? cosa c'entrerà la moneta è una cosa che usiamo per fare la spesa adesso magicamente arriviamo con la bacchetta magica e diciamo che lo scudo della Lombardia si rivaluta si apprezza e diciamo che a questo punto fra il cambio fra lo scudo e il leone lo scudo Lombardo vale due leoni veneti quindi il valore dello scudo Lombardo raddoppia il Lombardo è contento inizialmente è convinto di avere un regalo abbiamo la moneta forte abbiamo la moneta di serie A mica come quei pezzenti veneti che hanno invece il loro leoncino che vale la metà del nostro scudone quindi siamo entrati in serie A siamo entrati nel mondo delle regioni forti di quelli che hanno la moneta forte che bello siamo ricchi e allora cosa succede? succede che dopo due secondi il Lombardo guarda i suoi dieci scudi che ha nel portafoglio e si rende immediatamente conto che se lui va al mercato a Milano compra dieci pesche con quei dieci scudi se va a Verona ne compra venti e allora cosa fa? prende la sua macchinina va a Verona compra venti pesche pagandole con dieci scudi molto contento il negoziante di Verona che ha venduto venti pesche quello che vende le pesche a Milano vuoto il negozio però è contento perché questo signore che vabbè oggi si è vero avevo il negozio vuoto non ho venduto nessuna pesca però devo comprare il frigorifero il frigorifero mi costa cento scudi caspita però se io vado a comprarlo a Padova un bel frigorifero fatto da Veneti ma è più o meno bello come quello fatto da Lombardi costa cinquanta scudi per me quindi andrà a Padova a comprare un frigorifero Veneto che costa la metà il Padovano non andrà più a visitare Milano perché le robe costano troppo ha uno stupendio di cento leoni tutte le cose a Milano costano il doppio non ci vado più per il Lombardo sarà convenientissimo andare in vacanza a Venezia oh sono andato a Venezia costa pochissimo tutto costa la metà rispetto qua a Milano allora il Veneto che cosa fa comincia a mettere dei negozi a Milano dove vende i suoi prodotti che costano la metà dei prodotti fatti in Lombardia dopo due secondi vedete che tutti i Lombardi compreranno soltanto prodotti fatti in Veneto all'inizio sono contenti i Lombardi la loro vita sembra più semplice guarda che meraviglia sto pagando di meno le cose grazie scudo forte passa poco tempo e a tutti i Lombardi viene battuta una mano sulla spalla e gli dicono sei licenziato ma perché sono licenziato nessuno compra più i nostri prodotti non c'è più nulla le nostre pesche rimangono lì sul mercato i nostri frigoriferi nessuno li compra più non li compriamo più noi né li compra nessuno in giro all'estero perché tutti comprano il frigorifero Veneto che costa la metà e allora a quel punto il Lombardo licenziato non può più comprare nel frigorifero Lombardo nel frigorifero Veneto e comincia a stare molto molto male a un certo punto può alzare il ditino e dire ma sarà forse colpa della moneta che è troppo forte pazzo è la corruzione sono le tasse non è quella moneta lì cosa pensi la moneta è una roba neutra non c'entra nulla sarà che tu sei un fannullone sarà che tu non lavori più bene come una volta facevi e io dire ma come non lavoro più niente guarda i suoi prodotti come sono più belli non hai fatto innovazione è certo che non ha fatto innovazione è uno che ha il negozio vuoto che cosa innovo allora dall'altra parte invece questi che continuano a vendere prodotti hanno anche i soldi per poi dopo fare dei frigoriferi più belli a questo punto si arriva a un livello dove si rinforza così tanto l'economia del Veneto che anche se paradossalmente si pareggiassero le cose il vantaggio sarebbe troppo forte perché questa indebolita l'industria della Lombardia che viene uccisa dallo scudo troppo forte dalla disoccupazione si trova talmente in svantaggio che non ce la fa più a recuperare e allora uno dice ma vediamo di risolverla questa situazione ma non si deve toccare la moneta non è possibile toccare la moneta sapete che cos'è la prima idea l'ideona che viene fuori poi dopo a qualcuno stipendi la metà bisogna recuperare competitività caro il mio Lombardo dimezza lo stipendio e vedrai che sarai competitivo col Veneto e Lombardo dice sì ma io per carità posso anche pensare di dimezzare la mia paga ma poi la mia rata del mutuo è sempre quella ma poi dopo il latte il pane è così questo tipo che io devo comprare ogni giorno i prezzi sono quelli lì come faccio devi adeguarti vi risulta per caso che questo scenario questa favola stranissima possa un po' somigliare a qualcosa che forse sta succedendo anche da noi o è una cosa del tutto campatenaria non vi viene il sospetto che domani se la Germania uscisse dall'euro e l'Italia uscisse dall'euro la nostra moneta chiamiamola come vogliamo il fiorino il ducato la lira è morta non c'è più chiamiamola come vogliamo la nostra moneta sarebbe di valore un po' più basso rispetto all'euro invece il marco tedesco nuovo sarebbe di valore un po' più alto rispetto all'euro non vi viene sospetto vi sto dicendo una cosa strana vi sto dicendo una cosa che non esiste vi sto dicendo un'ipotesi campata per aria oppure è probabile che sarebbe così ecco se pensate che è probabile che sarebbe così sappiate che quella vi ringrazio vi ringrazio ma ascoltatemi pludite dopo se pensate che avrò ragione ascoltatemi perché è fondamentale è la prima volta che forse da un po' di tempo a una parte vi ricordano che sono le cause del perché si sta male qua e si sta male qua non è che si sta male in tutto il mondo si sta male qua non c'è la crisi mondiale andate a Londra a vedere se sono in crisi eh andate lì ho stato recentemente con Rinaldi che è qua in prima fila le macchine e le limousine si sprecano eh allora immaginate quindi questa Germania che esce dall'euro e la sua moneta si rafforza immaginate l'Italia che esce dall'euro e la sua moneta si indebolisce è bruttissimo verbo perché fa pensare che diventiamo più deboli più piccoli no diventa più leggera la nostra moneta diventa più pesante la loro moneta questa differenza ognuno di noi può avere in mente quale potrà essere 30% 40% non lo so è quanto in questo momento la Germania ci sta rubando in termini di competitività i suoi prodotti costeranno per tutto il mondo il 40% in più di quello che costano adesso e i nostri prodotti rispetto alla Germania costeranno esattamente della stessa proporzione in meno e se i nostri prodotti costano meno ne vendiamo di più se vendiamo più prodotti significa che c'è più lavoro e se c'è lavoro significa che avremo i soldi anche per comprare i prodotti importati chi ha perso il lavoro non compra nulla il potere d'acquisto di chi è licenziato è zero una moneta artificialmente forte porta inevitabilmente disoccupazione non c'è possibilità che diventi e che succeda in un altro modo quindi se noi in questo scenario della Lombardia del Veneto con le monete così fatte mettiamo tutte le soluzioni che ci propongono come geniali risolutive cosa otteniamo? otteniamo qualcosa che non serve a niente e se quel qualcosa non serve a niente a noi probabilmente serve a qualcos'altro quindi se noi al Lombardo che non ha lavoro perché la sua moneta è troppo forte artificialmente forte ricordate gliel'abbiamo fatta alzare con la bacchetta magica che è uguale all'euro normalmente una moneta forte è forte perché c'è tanta richiesta dei prodotti quindi se in un paese invece c'è poca richiesta dei prodotti allora il valore della moneta scende in questo caso noi siamo invece esattamente come la situazione della bacchetta magica siamo in crisi ma abbiamo la moneta forte è arrivato qualcuno che ci ha fatto raddoppiare il valore del nostro scudo allora cosa succede? succede che noi lombardi siamo in questa situazione la soluzione la state intravedendo anche voi senza che ve la spieghi io cosa dicono? ci vuole la patrimoniale bisogna tassare i risparmi bisogna alzare l'iva ma ma vi rendete conto di quanto vi pigliano per il culo? io sono indignato sono indignato quando ogni volta vado a parlare in televisione o cose di questo tipo su questi temi e vi dico signori non è che dico che ci vogliono più tasse non è che dico che ci vuole la corruzione sono tutte cose dove bisogna lavorare tantissimo ma il problema è un altro abbiamo una moneta troppo forte e questa percentuale di moneta troppo forte è quella che pesa su tutti e ma qualcuno ce la fa ma benissimo ma qualcuno ce la fa anche a saltare due metri ma non è che perché qualcuno ce la fa a saltare due metri allora tutti noi dobbiamo metterci a saltare due metri e se non riusciamo a saltare due metri dobbiamo morire e non è così e ma loro sono stati più forti loro sono stati più bravi loro hanno barato perché tutti i trattati erano stati congegnati in modo di favorire la Germania e all'interno di questi trattati c'erano cose ben precise come il divieto di eccesso di surplus vale a dire di esportare troppo il divieto di sforare il debito invece loro l'hanno infranto subito il giorno dopo il divieto di aiuti di Stato hanno dato 300 miliardi alle loro banche che stavano per saltare tutte nel 2008 e allora loro hanno pagato 300 miliardi hanno una banca che si chiama KFV dove hanno nascosto il 20% del debito pubblico con quella finanziano a zero i tassi hanno creato a tavolino lo spread perché lo spread altro non è che la paura che il debito pubblico non venga rimborsato il debito pubblico in tutto il mondo è sicuro nessuno si pone il problema che non venga ripagato il debito americano il debito inglese anche se possono essere in certi periodi sono stati molto più in crisi di noi quando c'è stata la crisi dei subprime americani gli americani erano in crisi discreta ma nessuno aveva il dubbio che qualcuno ripagasse i titoli di Stato americani avrebbero stampato dollari e avrebbero ripagato con quello no? invece da noi hanno detto ah guarda c'è la Grecia facciamola fallire così diamo un po' di lezione alla gente allora hanno fatto fallire la Grecia e far fallire la Grecia cosa significava? significava dire con un neon grosso così attenzione che c'è qualche titolo di Stato in giro per l'Europa che è un po' poco sicuro portate i soldi da noi che siamo invece sicuri il risultato è che la Germania in questo momento si sta finanziando a tassi negativi vale a dire il mondo paga per portare soldi alla Germania con questi soldi gratis poi la Germania finanzia le sue imprese e noi vogliamo competere abbiamo il 20% il 30% di svantaggio di valuta se noi andiamo in banca se una nostra impresa va in banca gli fanno un bel saluto di qualsiasi tipo dicendo che non gli presteranno niente o se glielo prestano glielo prestano a tassi che uno strozzino si vergognerebbe a praticare dall'altra parte tassi a zero e possibilità di fare tutto l'oro c'è stato un documento della Bundesbank che dice per rientrare dai crediti bella patrimoniale 10% di tutti i valori ma di tutti anche delle case quelle più piccole cosa che uno non si capisce come faccia a pagare una patrimoniale su una casa se non ha soldi ho comprato una casa ho un mutuo la pago con un bagno non lo so se mi chiedono di dover pagare una tassa del 10% del valore gli do un abbaino gli do l'ingresso che cavolo vogliono e poi dopo nello stesso documento c'è scritto in Germania la patrimoniale non andrà mai fatta perché danneggia la crescita ah ma bene ma certo ma perché noi siamo quelli che devono essere spiumati noi stiamo pagando tutti i crediti che la Germania ha concesso a tutta l'Europa del sud in maniera scriteriata e ce li stanno facendo pagare senza dirci nulla quando noi siamo andati in fila tutti eh perché noi siamo un popolo di gente sfaticata di gente corrotta tutti in fila ordinati a pagare la mini imu tutti in fila con una formula che neanche uno il matematico riusciva riusciva a cavarla no tutti in fila per pagarla mini imu questo popolo di corrotti questo popolo di lazzaroni questo popolo di gente che non ha il coraggio delle proprie azioni bene intanto per i 150 milioni che servivano per evitarci questa umiliazione perché quella è stata un'umiliazione la mini imu per un italiano ecco quei 150 milioni non si sono trovati ma nessuno vi ha detto che abbiamo usato 52 miliardi 52 miliardi non 150 milioni 52 miliardi per i fondi salvastati che significa pagare altri stati per i crediti della Germania quando accendete la televisione e guardate ballare questi bei programmi vi dicono la Spagna ha tagliato gli stipendi adesso va bene la Spagna ha tagliato gli stipendi ma non vi dicono che innanzitutto avrà anche tagliato gli stipendi ma il 25% di disoccupazione ce l'hanno ancora e non so se abbiamo idea di cosa sia il 25% di disoccupazione ma soprattutto non vi ricordano il piccolo particolare che noi l'estate scorsa abbiamo versato noi intesi Europa tutta ma soprattutto poi dopo noi 50 miliardi per salvare le sue banche se no erano tutti falliti 50 miliardi in proporzione significa che noi dato che abbiamo circa il 20% di questa spesa abbiamo versato 10 miliardi allora 10 miliardi per salvare le banche spagnole perché poi dopo loro potessero essere presi come bel esempio vedi che loro seguono quello che diciamo noi e vanno bene voi in fila pagare la minimu ma ve l'ha detto qualcuno? No perché quando si è trattato di votare i fondi salvastati e la Lega Nord è stata l'unico partito che non ha votato questa schifezza oh ma tutti eh l'hanno votato tutti l'hanno votato tutti tutti tranne uno quindi significa che ogni tanto qualcuno che ha il coraggio di andare controcorrente di fare il salmone si trova e quindi questo dovrebbe essere un esempio anche per tutti voi che si può anche andare contro quello che fanno tutti gli altri alla fine poi dopo non è detto che la ragione ce l'abbiano quelli là però quando c'è stata la votazione perché alla fine sono tutte cose votate queste infamie e beh quando c'è stata la votazione per il fiscal compact quindi e per il mess quindi per questo impegno avversare a impegnare miliardi e miliardi nostri che potevano essere utilizzati per creare lavoro per creare qualsiasi cosa utile per i nostri disoccupati ecco allora su tutti i giornaloni e lì è stato veramente dove ho detto Borghi tu devi metterti in prima persona qua perché non è più possibile così allora in tutti i giornali non c'era una riga l'unico che scrisse qualcosa fui io e perché lo infilai dentro in un articolo che mi avevano chiesto per un'altra cosa altrimenti il Corriere della Sera titolava anche Libero comunque devo dire quindi il giornale Libero fecero due cose però sono giornali considerati di nicchia e poi che dicono ovviamente il falso perché in realtà quello che dice vero è Repubblica allora Repubblica titolava su Rubi che era fondamentale no il Corriere titolava sul caldo era il 21 luglio ma io mi preoccupo mi sono preoccupato quel giorno lì mi sono preoccupato non sono mai stato un complottista non ho mai pensato che ci fosse la congiura del silenzio per stare zitti però io ero lì ho scritto sui social network che si scriveva vedo moglie in prima fila può testimoniare ero preoccupato ma cosa stanno facendo cosa stanno facendo cosa stanno votando scrivevo bombardavo di tutto preparavo l'articolo sul giornale e mai avrei pensato di vedere che una cosa così fondamentale che impegnava tanti tanti miliardi i nostri venisse totalmente censurata quindi da quel momento lì ho capito che veramente eravamo in guerra e dovete preoccuparvi ha detto giusto Salvini dovete preoccuparvi perché sono disposti a tutto sono disposti a mentire sono disposti a qualsiasi cosa pur di tenere in piedi un sistema che se dovesse essere sbugiardato si capisce lo capiscono benissimo che nel momento stesso in cui viene fuori la verità su tutto quello che è successo li vanno a prendere casa per casa per cui devono solo sperare che tutto questo vada avanti il più possibile sperando che arrivi gli ingenui sperano che arrivi il miracolo chi non è ingenuo sperano poi dopo di conquistarsi sufficienti prebende per poi dopo riuscire a fuggire tranquilli in Europa e vedete che già al nostro simpatico Enrico Lettano già promesso il posto in Europa in modo tale da tenerlo bello salvo e bello a posto quindi io ho scritto questo libretto per voi in modo tale che fosse inattaccabile dal punto di vista economico e di questo ve ne accorgerete perché è evidente che se io avessi scritto una riga falsa su questo libretto istantaneamente questa riga sarebbe stata ci sarebbero le gigantografie con le frecce dicendo Borghi dice bugie vedete questa riga è falsa e ve lo dimostro non le troverete perché io sono abbastanza bastardo e quindi io l'ho scritto in modo tale che non fosse attaccabile quindi quindi voi sapete che tutto quello che c'è scritto è vero e la fatica è stata quella semplicemente di rendere dei concetti che sono complicati che altri studiosi molto più bravi di me come per esempio il professor Bagnai che è stato citato prima scrivono in libri quello che Matteo ogni tanto ha regalato anche a Renzi per dire così magari ti documenti un po' su cos'è il vero ma tanto lui lo sapeva a memoria sicuramente quindi l'ha fatto semplicemente per ricordargli come vanno le cose ecco queste sono cose scientifiche il difficile è stato riuscire poi dopo a cercare di riportare in concetti che siano comprensibili più o meno a tutti quindi cerchiamo di capire capirete anche leggendo perché tutto quello che vi dicono che è irreversibile non si può le carriole di monete l'inflazione il mutuo le materie prime ma noi cosa facciamo la liretta giocheranno a palla con la nostra cosa sono bugie cambiare si può cambiare si deve e aspetta a voi veramente prendere in mano il vostro futuro perché abbiamo dato sufficienti anni della nostra vita adesso basta grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti penso che si colga che i 90 giorni che abbiamo davanti devono essere vissuti 24 ore su 24 non lasciate nulla di intentato perché penso che quello che si è detto oggi sia alla portata di tanta gente che ha la mente libera e ha voglia di capire quindi grazie a tutti grazie all'interprete per la lingua dei segni mi hanno segnalato più di 10.000 contatti solo sul sito internet basta euro punto org quindi diffondete il sito da domani in ogni dove prendete a piene mani e il quotidiano la padagna ringrazio Aurora Lussana per il contributo che sta dando anche come quotidiano usciamo di qua e cominciamo la battaglia e fra 90 giorni ci ritroviamo qua a festeggiare la vittoria di chi ha ragione grazie a tutti buona serata grazie a tutti grazie a tutti